alberto angela ha un segreto dietro il suo grande successo è la moglie monica chi è il suo grande amore sempre lontana dai riflettori alberto angela è forse uno dei divulgatori più famosi del mondo della tv figlio del grande piero e di margherita pastore fondatore di quark e super quark ha seguito le orme del padre diventando forse più amato e conosciuto del genitore le sue trasmissioni raccolgono sempre milioni di telespettatori con uno share che raggiunge vette incredibili nato a parigi nel 1962 l'uomo è tornato in italia a frequentare l'università peraltro terminata con la laurea conseguita con il massimo dei voti ha studiato anche negli stati uniti tra harvard e columbia e parla ben quattro lingue ad italiano e francese aggiunge spagnolo ed inglese specializzato all'ucla in paleoantropologia e paleontologia ha iniziato la sua carriera nella tv elvetica dalla svizzera alla rai il passo è stato breve ed ancora tutt'oggi è uno degli uomini di punta della tv di stato insignito della cittadinanza onoraria di napoli nel 2018 in una cerimonia ufficiata al maschio angioino l'uomo ha nella moglie e la famiglia il suo punto di forza angela il lunga r.si è sposato nel 1993 con monica conosciuta all'inizio della sua carriera televisiva all'epoca la donna era una studentessa e solo dopo un fidanzamento piuttosto lungo sono arrivate le nozze tre i figli avuti dalla coppia riccardo alessandro e l'ultimo edoardo angela i due amano lo sport il nuoto su tutto e l'arte e non sono certo una coppia mondana anzi vivono lontano dai riflettori e la donna non è mai apparsa in tv il legame tra i due sembri essere fortissimo ed alberto angela ha sempre protetto dal gossip la sua dolce metà monica dopo tanti anni di matrimonio conosce anche tutti i punti deboli del consorte e come conquistare angela semplice è proprio lui a spiegarlo con una fetta di dolce il preferito dello storico il tiramisù è un po' di dolce metà non è un po' di dolce metà non è un po' di dolce